Continuiamo con la contrazione, in questo caso nella coniugazione verbale. In classe abbiamo parlato dei verbi in alfa-omega, adesso vediamo quelli in epsilon-omega. Parto sempre dal presente indicativo attivo. In questa schermata, infatti, vedete il tema del verbo che ho scelto, il verbo fileo, che significa amare. Ho separato la radice, che finisce con la vocale, dalla desinenza che ho messo accanto. Gli incontri che noi dobbiamo risolvere, sono l'incontro epsilon più omega in prima persona singolare, incontri tra epsilon ed epsilon in tutte le persone, tranne che nella prima plurale e nella terza plurale, che invece vedono l'incontro tra epsilon ed omicron. Così come già abbiamo visto dalle regole della contrazione, epsilon più omega vede prevalere il timbro oscuro nella sua versione lunga, in questo caso omega, invece l'incontro tra epsilon più epsilon ed epsilon più omicron dà esito a due dittonchi. La regola dell'accento è sempre quella che già abbiamo visto. Se ad essere accentata prima della contrazione è la vocale che appartiene alla radice, l'accento sarà circonflesso. Nel caso del presente indicativo attivo questo avviene in tutti i casi. Quindi leggo Adesso vediamo il presente medio passivo. Gli incontri sono sempre gli stessi, epsilon con omicron o epsilon con epsilon. Nei casi di incontro tra epsilon ed omicron abbiamo, diciamo, due opzioni, quelle in cui ad essere accentato è il primo elemento e quelle in cui ad essere accentato è il secondo. Per esempio, in prima persona singolare e in terza plurale, noi abbiamo come esito un dittongo omicron y con accento circonflesso. Invece nella prima persona plurale, e nel momento che la disinenza è trisillabica, l'accento si trova sulla vocale della terminazione e quindi l'esito darà un accento acuto sul dittongo omicron y. In tutti gli altri casi, l'incontro epsilon accentata con epsilon della terminazione dà come esito epsilon iota con accento circonflesso. E quindi la forma completa è questa. Passiamo all'imperativo presente. Nell'imperativo presente gli incontri sono quelli tra epsilon ed epsilon e quello tra epsilon ed omicron. Bisogna però stare attenti all'accento e quindi in questo caso ho dato tre colorazioni che sottolineano proprio l'accentazione differente. Nella seconda persona singolare noi abbiamo due epsilon che si incontrano e nessuna delle due è accentata, quindi l'esito sarà un epsilon iota senza accento. Invece nel caso della terza persona singolare e della terza duale, della terza plurale, ci sono incontri con il secondo elemento accentato, quindi l'accento è sulla vocale della terminazione perché l'ultima sillaba è lunga e quindi l'esito sarà il dittongo con l'accento acuto. Invece nei casi evidenziati in arancione il primo elemento è accentato, il secondo no e quindi l'esito sarà il dittongo epsino iota con accento circonflesso. La forma definitiva quindi è filei-fileito, fileiton-fileiton, fileite-filunton oppure fileitosan. L'imperativo medio-passivo vede l'incontro tra epsilon e il dittongo omigone y oppure l'incontro tra due epsilon. Varia anche qui la posizione dell'accento e quindi varia soltanto l'accento sul dittongo epsino iota. Quindi tranne il primo caso in cui c'è questo dittongo omigone y, per il resto noi leggiamo sempre epsino iota, ma sappiamo che l'accento sarà acuto se l'ultima sillaba è lunga e sarà circonflesso se l'ultima sillaba è breve. Filu-fileisto, fileiston-fileiston, fileista-fileiston oppure fileistosan. L'infinito presente attivo ha una desinenza e-in, quindi la contrazione da il dittongo epsino iota con accento circonflesso, filein. Nella forma medio-passiva noi abbiamo file-estai, anche qui una contrazione in epsino iota con accento circonflesso. Per la prossima volta vi raccomando di studiare la tabella su questi modi indicativo imperativo infinito, sia attivo che medio-passivo, a pagina 362-363 del libro degli esercizi, guardare bene la tabella lessicale a pagina 363, svolgere l'esercizio che è abbinato, e poi coniugare sul quaderno i verbi adicheo e poneo, nei modi che abbiamo studiato, completare e tradurre le frasi 1, 3, 4 e 5 dell'esercizio 22.